e Mi scappa da ridere perché è una delle prime volte che l'ho visto Gira cambia l'obiettivo ha fatto clic Gira cambia l'obiettivo Ciao Grazie 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 Buon appetito! microgrill, aspetti un attimo signore 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 La nostra è questa, però scendiamo qui, scendiamo qui ma la linea è questa. No, non c'è nulla. 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 Secondo me si mettevano i nomi perché solo la tutta non si sarebbe male. Si, non lo si mettevano? No. Discovery is on board, computers and power to control of all the vehicles could be or functions. Last reach of the stars. Justice, come over here bud. Where is he? Hi bud. I got it, just got it. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti.